Le sue le stanane, le sue trattori, le sue madone, le sue le sere mani, le sue le stili, e dopo giugno il gran conflitto e poi Egitto è un'altra età marce fastiche e federali sotto i banali oscurità e poi ritorno in un paese diviso e un neo nel viso e un rosso d'amore insieme maia 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 e Aida, la costituente, la democrazia, egli ce l'ha, e poi a vent'anni, gli disaffari, la democrazia, e poi a vent'anni, la democrazia, egli ce l'ha, e poi a vent'anni, gli disaffari, e poi a vent'anni, gli disaffari, e poi a vent'anni, gli disaffari, e poi a vent'anni, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Aida, come se veda, come se veda Aida, come se veda Aida, come se veda Aida, come se veda Aida, come se veda Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.